buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere un pochino meglio come funziona un grid bot vi farò vedere come sta andando la mia nuova strategia che sto adottando da circa 48 ore con la coppia mina usdt ovviamente dopo la sigla come vediamo nell'immagine il bot a griglia opera all'interno di un massimo e un minimo all'interno dei quali il bot disegna virtualmente delle griglie come le vedete segnate sia in verde che in rosso all'interno di queste griglie si crea quell'automatismo del bot che fa acquistare e vendere più volte una determinata copia di cripto valute da noi disegnate per massimizzare i nostri profitti come stiamo vedendo sul trading bot big gap questa è la coppia mina usdt e vedete la suddivisione in griglia nella parte dove ci sono i puntini verdi compra il rosso vende come vi ho spiegato nella prima presentazione di biz gap i bot grid funzionano molto bene in assenza di trend proprio come stiamo vedendo in sovraimpressione infatti il prezzo si muove all'interno delle griglie permettendo così di generare un profitto di contro se dovesse andare in trend che sia in salita sia in discesa potrebbero saltare le griglie se non andiamo a inserire il trailing down train up e le eventuali take profit e stop loss sto testando questo grid bot da qualche giorno chiudendo prendo delle operazioni e adesso questa è l'operazione vedete in sovraimpressione coperto esattamente l'altro ieri sulla coppia mina usdt e attualmente in neanche due giorni sta performando il 2.21 per cento che è il profitto la percentuale di profitto del bot attualmente questa coppia la sto testando con circa 500 dollari con 24 livelli di griglie biz gap ha introdotto la possibilità di salvaguardare la nostra strategia inserendo il tra il lap o il trailing down che cosa sono queste due funzionalità praticamente il trailing up il bot va ad attare in base al valore in questo caso di mina se superiore alle griglie che abbiamo creato il bot va ad attare va a spostare la nostra griglia per andare a farci coprire il nuovo massimo per quanto riguarda la strategia la stessa cosa per il trailing down se il prezzo di mina è inferiore alle nostre ultime griglie il bot va ad attare tutta la conformità delle griglie in base al prezzo basso corrente ovviamente il parametro trailing down possiamo andarlo impostare anche manualmente la funzione di trailing down per essere operativa tramite il sistema andrà a verificare se il nostro saldo è sufficiente per effettuare il nuovo ordine di acquisto in quel caso l'opzione trailing down quindi la nuova griglia diventerà operativa annullando gli ordini della parte superiore della griglia spostandoci qui sotto si può fare anche adesso che il mio bot con la strategia attiva ma soprattutto prima di avviare il bot possiamo vedere a seconda dei parametri che siamo andati a impostare oppure quelli automatici che ci assegna beat gap possiamo andare a vedere il back test fino a 30 giorni cosa sarebbe successo se avessimo attivato 30 giorni fa la nostra strategia abbiamo il back test e con le impostazioni di adesso il mese precedente avrei ottenuto il 34,64 per cento di profitto e non è per niente male vi ricordo che se volete provare beats gap in descrizione trovate un referral link che vi permetterà di provare per 14 giorni il bot in versione pro come ho detto nella presentazione di qualche giorno fa è un bot base costa 17 euro al mese e già con quello l'operatività è praticamente quasi completa e possiamo tranquillamente utilizzare il bot e avere i nostri bei profitti va da sé che per coprire la spesa dei 17 euro bisognerebbe utilizzare dei fondi tali che anche con una percentuale veramente bassa quasi assurda per un bot con un'alta resa del genere ci permetta di ricoprire almeno il costo dell'affitto del bot andando ancora più sotto abbiamo le strategie consigliate fa vedere già in automatico dei back test su alcune coppie e ci fa vedere in ordine decrescenti dalla più performante alla meno performante che possiamo utilizzare è importante ricordare che il back test ci fa conoscere quello che sarebbe successo con la nostra strategia nel passato ma non ci dà alcuna indicazione di quanto andrà a fruttare la nostra strategia nei 30 giorni successivi perché ovviamente nessuno conosce il futuro della coppia che andiamo a scegliere però ci dà un'indicazione ci aiuta a capire come si sarebbe mossa negli ultimi 30 giorni la coppia di valuta che andiamo a scegliere il bot e ci dà anche la possibilità di operare con un conto demo se non vogliamo immediatamente utilizzare dei nostri fondi siamo di vatici a fare dei testi con delle strategie in totale libertà con dei soldi in demo nella funzionalità della strategia troviamo tre diversi botte quello che vi consiglio come ho detto precedentemente è l'asset bot che quella studiata per avere un'efficienza elevata e per avere il ritorno massimo in termini di in percentuali di profitto nella parte che c'è ovviamente andiamo a selezionare gli exchange con il quale abbiamo collegato il nostro bot tramite le chiavi api cliccando qua sotto dove c'è il nostro bot attivo dove ci sono i grafici possiamo andare a modificare take profit lo stop loss disabilitare abilitare tra l'app tra l'in down e andare a vedere come si sta comportando il bot quindi il profitto i fondi attuali e i fondi iniziali le percentuali se sono positive o negative come vedete questa nuova strategia è stata impostata il 10 9 2021 alle ore 23 e 44 adesso siamo al giorno 12 9 2021 alle ore 22 05 e come vedete il profitto del bot e del 2,32 per cento bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento spero che il video l'abbiate trovato utile mi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatte di commentare i miei video e lasciarmi un like e se avete voglia di univianca la nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi per rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda le tematiche che tratto nei miei video e per fare due chiacchiere anche con tutti i membri della community noi ci vediamo domani come sempre vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo che non sono consigli finanziari mi mando un abbraccio a domani grazie a tutti grazie a tutti